Grazie a tutti. In gravi condizioni, sul posto i carabinieri, vigili del fuoco e il personale medico e allarme per la condizione di quel tratto di strada, interrogazioni in provincia. Con una lettera inviata al commissario Casula, la lista TED chiede che si intervenga verso il Ministero per accelerare le pratiche per l'apertura del Museo della Città, spazio culturale di livello nazionale. Questa mattina abbiamo intervistato il vincitore delle primarie di centro-sinistra Stefano Lubrano, apertura della società civile con tecnici in giunta, intanto ancora polemiche a sinistra con Di Nolfo che non risparmia critiche alla serra. Un saluto a tutti voi e ben ritrovati con l'edizione quotidiana del nostro telegiornale. L'apriamo purtroppo riferendovi un'ultima ora di un grave incidente avvenuto poco prima delle 12.30 sulla strada che da Alghero porta ad Olmedo. Un po' più in là del bivio di Rudas, due auto si sono scontrate violentemente, due le persone coinvolte, una donna e un uomo. Quest'ultimo in condizioni gravi è stato trasportato all'ospedale di Sassari. La strada è stata chiusa, sul posto naturalmente i soccorsi, il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Grave incidente questa mattina intorno alle 12.15. All'altezza del bivio di Rudas una Fiat Punto e Duna Golf si sono scontrate. L'impatto è stato molto violento. Nello scontro sono state coinvolte due persone, un uomo e una donna, conducenti delle rispettive auto. Ad avere la peggio è stato l'uomo alla guida della Golf, apparso subito in gravi condizioni ai primi soccorritori. È stato immediatamente trasferito all'ospedale di Sassari. Sul posto sono giunti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Alghero e quelli della stazione di Olmedo. Il 118 è stato fatto, è stato fatto che si è reso naturalmente necessario l'intervento dei vigili del fuoco. La strada è stata chiusa. Gli stessi carabinieri sono ancora al lavoro sul luogo del sinistro per ricostruire la dinamica. E si ritorna quindi a parlare della condizione in cui versano le strade del territorio, precisamente quella 127 bis e la provinciale 19 che da Alghero conduce appunto ad Olmedo. Lo stato in cui si trovano è pessimo. Urge un intervento e interrogazione del consigliere provinciale del PDL, Tony Faedda. Non si contano ormai le volte che abbiamo affrontato nel nostro telegiornale l'argomento sicurezza strade del territorio. Solo poco tempo fa ci siamo occupati di riportare lo stato in cui versa la strada che Dalghero conduce ad Olmedo. Il collegamento che ogni giorno è percorso da numerosi mezzi non si trova sicuramente in condizioni che possono garantire la dovuta sicurezza a chi percorre quei chilometri d'asfalto quotidianamente. Viaggiando poi lungo l'arteria dal centro catalano in direzione di quello olmedese e viceversa, ci si imbatte in una corsia a destra che è piena di buche. Infatti in diversi punti è saltato l'asfalto e questo rende pericoloso il tracciato, in special modo quando piove. Inoltre dal bivio di Rudas in direzione Olmedo la condizione della strada è veramente pessima. La corsia a sinistra infatti dissestata e questo rende il passaggio molto pericoloso. Sono davvero tante le segnalazioni e lamentele sul mancato intervento della provincia. Lo stesso consigliere del PDL, Tony Faedda, ha fatto un'interrogazione nella quale viene chiesto all'assessore alla viabilità di convocare urgentemente gli organi preposti al fine di dare il via alla manutenzione sulla strada statale 127 bis. Il consigliere provinciale sottolinea che lo stato della sede stradale peggiora costantemente, rendendone sempre più difficile e pericoloso il transito. Faedda nel documento segnala inoltre che la strada provinciale numero 19, quella appunto nel tratto Olmedo-Bivio di Rudas, unitamente a quella 127 bis e fino all'abitato di Alghero, versano davvero in condizioni precarie. È necessario un intervento immediato per il ripristino del manto stradale, visto il grave stato di degrado in cui versano due arterie così importanti per i collegamenti del territorio. Ritornando alla cronaca, nella tarda mattinata di oggi è scattato l'allarme nel comando dei vigili del fuoco di via Napoli per un intervento urgente in via Sassari. Qui, dalla struttura che un tempo ospitava il Cinema Selva, hanno iniziato a cadere dei calcinacci e parte dell'intonaco, creando un pericolo per i passanti e in particolare per gli operatori dei parcheggi. Dopo la segnalazione, in pochi istanti sul posto sono giunti due mezzi dei pompieri. Dopo aver visionato l'immobile, hanno messo in sicurezza l'area con il classico nastro bianco e rosso. Attraverso l'utilizzo di una scala hanno poi raggiunto il tetto per verificare le condizioni generali dello stabile che, come è noto, è già da tempo in condizioni precarie. In via Sassari è anche una pattuglia della Polizia Municipale che ha regolato il traffico anche in considerazione della chiusura di una porzione di parcheggi proprio davanti all'ex cinema. E proseguiamo con la cronaca. Un progiudicato algherese è finito in cella dopo che ha evaso gli arresti domiciliari. La misura restrittiva era dovuta all'amessenato di alcuni furti nella zona di San Giovanni. Nella mattinata di ieri la squadra volante del commissariato di Alghero ha arrestato FC, 34enne algherese in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Tribunale di Sassari. L'uomo era stato denunciato per evasione dei domiciliari. Lo scorso 2 febbraio non era stato trovato in casa durante un controllo effettuato dalla squadra volante. Sempre il 34enne si trovava ai domiciliari dal mese di agosto dell'anno passato, quando la squadra mobile del commissariato di Alghero, intervenendo in Vierico Costa, lo aveva individuato che colpiva con un bastone il vetro di una vettura parcheggiata. Immediatamente fermato, il responsabile era stato subito trasportato in commissariato ed identificato. Dall'esame erano emersi anche numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Poi, da un riscontro immediato, emerse che nella zona dove era stato fermato nel mese di agosto, a seguito anche di alcune testimonianze, erano stati accertati numerosi tentativi di effrazione ai danni di autovetture parcheggiate. Per questo motivo, aveva subito una denuncia alla Procura della Repubblica di Sassari per tentato furto aggravato che gli era costato i domiciliari. Grazie a tutti.